Primo giorno di apertura del cimitero comunale. Non si sono registrati assembramenti e tutto si è esvolto nel rispetto delle norme dettate dall'ordinanza del sindaco. Il sindaco Cosimo Ferreoli infatti, nella veste di massima autorità di sanitaria locale e protezione civile del territorio, ha emanato un'ordinanza con decorrenza 6 maggio 2020 per la riapertura del cimitero comunale per finalità di culto e per far visita ai defunti. Gli orari previsti in questo periodo di emergenza sanitaria sono da lunedì al sabato dalle ore 7 e 30 alle ore 11. L'apertura viene regolamentata con la normativa volta a prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del covid, rispettare la distanza di sicurezza di un metro, evitando gli assembramenti, indossare mascherine di protezione. All'interno dell'area cimiteriale non potranno tenersi cerimonie funebri. Nell'ordinanza si legge che le confraternite e le congregazioni saranno investite per la sanificazione delle aree di pertinenza, mentre le cappelle e le aree comunali sono state sanificate dall'ente.